Sono andato molto prudente su questa cosa perché già avevo delle analisi dal mese di giugno che mi davano più che sufficiente la qualità dell'acqua dal punto di vista archeologico e chimico. Confermano le analisi dell'ENAS, dell'enteacqua, dell'ARPAS regionale da questo punto di vista. Quindi credo che il lago Vodeo si possa presentare come uno specchio d'acqua pulito per la produzione agroalimentaria del Campidaro, del Medio Campinaro, del Campidaro di Caglia.